Riqualificazione del mattatoio comunale, da adibire a frantoio oleario, museo dell'olio e aree di degustazione di tipicità. Il comune, guidato dal sindaco Renato Iosca, avvia la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, cooperative, società, consorsi, associazioni. L'immobile e l'area contigua saranno concessi in comodato d'uso per 30 anni. I soggetti partecipanti dovranno comprovare la propria disponibilità di mezzi produttivi adeguati e capitale sociale non inferiore a 1.999.200 euro. La realizzazione delle opere dovrà essere terminata in 18 mesi. Sono richieste inoltre precedenti esperienze nel settore della gestione di impianti oleari e delle strutture ricettive annesse. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Albanella entro le 12 del 26 gennaio. Il plico, come specificato nell'avviso reperibile online sul sito dell'ente comunale all'indirizzo www.comune.albanella.sa.it, dovrà contenere tutti i dati necessari all'identificazione del candidato e il recapito per ulteriore corrispondenza.